Si fa molto bene. Sperate che non voti quindi vi sentite più sereni? Adesso sereni non porta bene. Al di sopra delle aspettative? Al di sopra delle aspettative? Si è lavorato, i risultati non vengono mai a caso. Speriamo domani al Senato. Siete fiduciosi? Ha visto che la Polverini ha votato sì? Sì, ho visto. Ci ce ne saranno che voteranno chi domani? Non lo so, vediamo domani. Grazie.